Direttore, tutto fatto per Davide Marsura? Sì, tutto fatto, sta facendo le visite, quindi a momenti dovrebbe arrivare a Zafferana e quindi penso che è un esterno d'attacco che ci serviva e piano piano stiamo completando questa squadra. Si è parlato per lui di un biennale con opzione per il terzo anno, è così? Sì, hai detto la cosa giusta, sono due anni, è un ragazzo molto promettente che speriamo di ritrovarlo anche nei prossimi anni. Direttore, per l'inizio del campionato manca poco, arriveranno due centrali difensive e un attaccante e per l'attaccante avete già qualche idea? Sì, devono arrivare due difensori, di cui uno penso che arriverà domani e l'altro stiamo aspettando un pochettino le risposte e l'attaccante lo faremo alla fine. Giovinco e De Luca restano o vanno via? No, De Luca e Giovinco sono a disposizione in questo momento del mister, poi alla fine del ritiro tireremo le somme per capire da farsi. Si conferma che il Catania alla ripresa del campionato si allenerà da C. Sant'Antonio? No, penso di no perché penso che ci alleneremo come l'anno scorso a Ragalna perché alla G. Sant'Antonio ci sono delle squadre e quindi abbiamo optato per andare a Ragalna. L'ultima sullo stadio, tutto quello che sta accadendo con i lavori, si arriva dunque alla prima di campionato proprio al Cibali, crede che si giocherà, voi ci sperate come società? Ma assolutamente sì, noi speriamo che la prima di campionato la giocheremo al Cibali, quindi io sono ottimista che la giocheremo là, poi piano piano, ma i lavori penso che siano finiti, il problema è solo che la commissione deve dare l'ok e basta. Federico, non so se ci sono per te delle domande da porre al direttore? Una, visto che ci ha spoilerato che domani potrebbe arrivare uno dei due difensori centrali qui a Zafferana, ci dia qualche indicazione se può. Ci chiedono qualche indicazione su questo difensore centrale, visto che ci ha un po' anticipato che domani ci saranno dei movimenti. No, non posso anticipare niente perché fin quando non c'è la firma non voglio dare niente per scontato, quindi domani arriverà un difensore e poi quando passerà le viste lo annunceremo. Naturalmente, grazie direttore.